Non sono lontani i diritti della politica, dal paese reale, che non capisce perché, abbiamo anche sentito, non si devono disturbare i poveri parlamentari a Ferragosto. Prego, fate parlare. Ognuno ha il diritto di esprimere quello che crede. Ma non capisco, visto che per bocca del senatore Renzi avete già vinto tutta questa agitazione, questo nervosismo. L'Italia vuole avere certezze e cosa di più bello, democratico, trasparente, lineare, dignitoso, che dare la parola al popolo. Cosa c'è di più bello? No, capisco. Questa paura, questo terrore, questa disperazione, le capisco a parte del senatore Renzi, comprensibilissimo. Fossi in lui mi agiterei nella stessa maniera, perché con i disastri che ha fatto, sa che al voto gli italiani lo mandano a casa sicuramente. E quindi piuttosto deve volare la poltrona, sto qua col Fina Villa, 24 ore su 24, comprensibile, umanamente comprensibile. Andiamo a votare, tagliamo settimana prossima 345 parlamentari e poi il senatore Renzi, il mio mandato non lo metto nelle mani sue perché non mi fido, ma lo mette nelle mani degli elettori italiani, che sono gli unici proprietari e depositari del consenso di questo mandato. Leopold, è il bene perché saremmo noi gli antidemocratici e i fascisti e sono loro che non vogliono andare a votare, non vogliono andare a votare mai. Mettetevi d'accordo con voi stessi. Non ho mai conosciuto un fascista che vuole andare alle elezioni, vuole dare una parola a voto. Mettetevi d'accordo con voi stessi. Da quando ho cominciato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza mai avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva eleggere a Bolzano, ma prendendo i voti dei cittadini, sempre prendendo i voti dei cittadini, non scappando da Arezzo per andare in Pirono, che non sono neanche rossi. Quindi è questo il senso, mai paura di ascoltare la gente. Se voi la gente ridarà l'incarico di governo a Matteo Renzi, lo penso, ma questa è la democrazia. Buon lavoro Presidente Renzi, anche se gli italiani le sue cure le hanno già provate e non mi sembra che le abbiano apprezzate.